va bene va bene ciao a tutti benvenuti su fasma fobia siamo tornati oggi torniamo la 6 7 v drive perché dobbiamo scoprire si può ridurre di gemelli rai no come cosa mettiamo è una scattista è una scattista è morto fa due metri ma che sta torce allora ma te non so gennaro che ti ha spiegato probabilmente un cazzo perché un coglione ma come allora ti spiego ma te di basso ma come girati però col personaggio perché sennò mi sento un coglione ma tu lo sei dove è andato ma dov'è comunque ma te girati guardami negli occhi col personaggio perché sennò ti riesco a farla così allora di base ma madonna devi scoprire che timidi fantasma andiamo a cercare eccoci qua allora ragazzi allora non ti preoccupare è buono è buono ma si aumenta ascolta ascolti allora questa qua praticamente è la bagaglia che ti spiega più bene il caso che stiamo intraprendendo non mette la testa cosa era cos'era 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 hai visto una palla di luce sì credo di sì non lo so non non ho la certezza assoluta andiamo in cuscina così vediamo se stessi finisce la temperatura e se sta qua sta uno qua ah vabbè se sta uno c'ho una foto di un cane che ci fa ma cazzo non l'hai trovata dove l'hai trovata non lo so c'ho più un legbro ma butta te cosa hai detto oh 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 globolo di luce confermato davanti a me e lo stesse qua a posto mettetevi sul furgone così magari mi risponda allontanatevi del tuo ok globolo di luce trovato lo segno la mettiti sul no la mettiti sul furgone stavo dietro di te lunghe io ci sta spostando ci sta spostando cazzo stanno cazzo stanno cazzo eccolo ce l'ho ce l'ho sto sul corinoio che lo fa ce l'ho ok ok è qua vado vado c'è capito tutti i puntini sono 20 una minaccia come si apre oh che succede è morto è morto apri sta cazzo di morto che cosa ma sento che chiudi la porta no allora secondo me è molto cattivo ha ucciso nello allora proviamo un attimo a capire una cosa allora siccome l'attività è anta io direi che cazzo ha scritto qualcosa è scritto qualcosa sul corpo uno junger è un fantasma che è tornato nel mondo fisico di solito a scopo dipendetto di odio i junger sono noti per avere un effetto più forte sulla sanità mentale delle persone usare un incensio nel muco di morto di uno junger con il trappone la tempo me ne mette eh ma il puntatore d'orso non ha funzionato però queste qua sole ma in realtà si quando gliel'ha puntato Mattè è rimasto un po' di tempo dovrebbe essere chiaro quando dobbiamo crearci una zona di luce così rimangiamo là secondo me allora persone da su eh no ma dipende perché tipo per parlargli deve sta tutto al buio eh poi dopo torniamo in una zona di guccia oh questo è bello poco oh ma Mattè ragazzi sfena di luce qua oh ms alto ok dentro sta cosa dentro qua dove è Mattè dentro sta tenda Mattè ah risponde a persone da sole andiamoci 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 ma Mattè ma Mattè è andato mi sa ha raccolto un dischio comunque ah un oggetto maledetto aspettate mi stava l'attima risalire di pochettone oh dove è? eccolo 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 di prima dove sei? si amminevole? dove vuoi rispondere? oh strunz no vedi se i dots funziona i love dots oh ma allora si strunz dove sta? che non c'è nessuno secondo me puntatore dots è così perché mi è venuto in conto e ancora è il grano in giù per me possiamo andare ma perché hai messo anche temperatura in gelamento? no ho messo MF e sfera di luce io non l'ho vista io si ne vedo con la telecamera stiamo dentro questa tenda ah le MF scusa perché? è che prima hai detto che c'era un'attività superiore a 5 o a 5 no no non c'è mai arrivato a 5 ah beh c'è arrivava sempre a 3 poi quando ci stavano in conferenza arrivava a massimo a 4 non è che è un Banshee vedi in conto più ecco ecco l'ho tirato l'ottima sono morto sono morto ma come dicevo? non sapevo che eri Banshee si ma non gli ha risposto ma non è che sono morto ok sono morto ma non è che Grazie a tutti.